L'acronimo inglese che vi risparmiamo, NET, indica quei giovani che non studiano, non lavorano né si stanno formando professionalmente. In Friuli Venezia Giulia sono 26.800, il 16,9% fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. A Trieste essi sono il 13,1% della popolazione giovanile, un dato che pone la città all'undicesimo posto a livello nazionale secondo i dati Istat. In regione il tasso di NET più elevato si riscontra a Gorizia col 22,9%, seguono Pordenone col 19,4% e Udine col 15,3%. Il dato medio relativo al Friuli Venezia Giulia è inferiore a quello medio italiano, 24,1%, ma superiore a quello del nord-est, 15,6%. Per porre rimedio a tali numeri, a breve, fa sapere la regione, partirà il nuovo programma Garanzia Giovani, oltre 7 milioni di euro a disposizione grazie a fondi europei e nazionali, attraverso il quale, in collaborazione con centri per l'impiego, centri di orientamento, università ed enti di formazione, i giovani potranno fruire gratuitamente di percorsi formativi ed essere beneficiari di tirocini extracurricolari. Nella prima edizione Garanzia Giovani ha fatto in modo che il 60% dei tirocini avviato sfociasse in contratti di lavoro, di cui il 16% a tempo indeterminato full-time e il 6% a tempo indeterminato part-time.